Due persone sono state arrestate dai carabinieri la notte scorsa a Pistoia in altrettante distinte situazioni per reati contro il patrimonio. Nel primo caso un militare del NORM, libero dal servizio, mentre percorreva a piedi via 4 Novembre nel centro di Pistoia, ha notato una persona mentre era intenta a forzare la portiera di un'auto in sosta. Chiesto immediatamente l'intervento della pattuglia più vicina, il militare è intervenuto bloccando il ladro. Un 28enne residente a Pistoia, già noto alle forze di polizia, che è stato trasferito nelle camere di sicurezza del comando di Viale Italia in attesa della direttissima. Nel secondo episodio, qualche ora più tardi, una pattuglia del NORM è intervenuta, sempre in via 4 Novembre, su richiesta di un cittadino che ha chiamato il 112 per un acceso litigio fra due uomini, che in realtà si è rivelato un tentativo di furto, trasformatosi in rapina. Un artigiano era sceso dal suo furgone lasciando il marsupio con documenti e denaro nell'abitacolo e un uomo, al quale non era sfuggita la momentanea distrazione della vittima, se n'era impadronito, cercando di fuggire a piedi. Ma il proprietario del marsupio, accortosi in tempo della manovra, è riuscito a bloccarlo. Tra i due è nata una colluttazione fino all'arrivo dei militari, che hanno arrestato il malvivente e un 37enne residente a Pistoia con precedenti di polizia. Dopo la formalizzazione dell'arresto, su disposizione della procura, il 37enne è stato trasferito nel carcere di Pistoia.